mambo losco e giulio torini aspettano un bambino molto probabilmente sì questo perché per il motivo più banale che giulia ha postato un tiktok dove ironicamente scrivendo le cose che vorrebbe per natale fra macchine cappotti e altro nella quinta ha messo uno specchio con una donna incinta è chiaramente una battuta ironica sul fatto che la donna è incinta e si scherza sullo specchio che chiaramente passa in secondo piano nei commenti possiamo vedere mambo scrivere baby mambo o baby giulia quindi scherzando scherzando la situazione poteva concludersi qui se non fosse che giulia nelle sue storie si ha postato questa foto con questa scarpa che come vedete dall'immagine grande quanto una sua mano e non di più chiaramente una scarpa del genere non può indossarla né mambo né giulia perché è molto ma molto piccola se non che adatta un bambino e il fatto che loro stiano già comprando accessori adatti ad un bambino fa molto pensare che come è successo con soffie di crisi a fulli che è rimasta incinta e l'ha annunciato qualche mese dopo giulio torini potrebbe effettivamente essere già incinta con probabilità molto ma molto elevate ma non aggiungo altro e voglio sapere la vostra opinione qui sotto al video con un commento noi ci vediamo alla prossima linea allo studio ciao ciao